Oggi ti voglio parlare della legge di Pareto, che sembra che abbiano fatto per i geometri. Pareto, un grande ingegnere economista, si interessava di politica, fece la legge 80-20. Come si applica a noi? Pensaci, il 20% dei tuoi clienti, dei miei clienti, ti dà l'80% del fatturato. Pensaci, solo il 20% dei clienti ti dà l'80% del fatturato. Però la mia impressione qual è? Se continui a pensarci bene, tu vedrai che dedichi l'80% del tuo tempo a quelli che non ti danno il fatturato. A quelli che io chiamo i rompi, quelli che ti suonano a casa il sabato, quelli che hanno fretta e ti lasciano la pratica sulla scrivania e poi non vengono a ritirarla, quelli che per pagare ti fanno soffrire e vogliono pagare quanto dicono loro. Mentre il cliente che paga subito, immediatamente, che parla bene di te, che rispetta la tua professionalità, la sua cartellina va sempre sotto, sotto, sotto. Si rimanda, si rimanda, si rimanda. Dai, decidiamo la legge di Pareto. Dedichiamo l'80% del nostro tempo a chi ci merita, a chi ci dà il fatturato, a chi parla bene di noi. Ti lascio questa riflessione. Penso ogni tanto l'80-20. Sto dedicando il mio tempo prezioso a chi lo merita. Questo ti farà lavorare di meno e guadagnare di più. Buona vita da Pino Mangione. Il chiamatra con gli stivali. Buona vita da Pino Mangione.